Mi stimo l'incoraggio un attimo perché ho capito che internet è pieno di magagne e allora cosa faccio? Io chat su WhatsApp, che è sicuro, è sicuro, è sicuro, non è sicuro, ecco perfetto, non è anche quello, ma perché? Tutti usano WhatsApp, ecco WhatsApp serve per chattare con gli amici, è un sistema di messaggistica, ma le faccio un esempio, guardi eh, adesso io la scollego da internet, si riprenda, lo sono scollegata da internet, controlli WhatsApp, funziona? Sì, guardi meglio, non funziona, perché? Perché WhatsApp per funzionare ha bisogno di internet, quindi ci si espone ovviamente a tutti i rischi, bisogna stare attenti, venga con me che le spiego, le faccio vedere qualche caso, venga, 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 ho fatto anche su WhatsApp, ma che magari, venga, venga! Ecco, spiegaci, ad esempio a lei piacerebbe avere la versione gold, la gold di WhatsApp, la voglio! Bene, allora le mando un messaggio di esempio così poi ne parliamo, ecco qua, via, è arrivato? ho fatto io, si è arrivato, e finalmente è arrivata la versione segreta di Whatsapp, questa versione, la gold, usata solo da grandi celebrità, ora puoi usarla anche tu, cioè io e George Clooney, e per lei è perfetta direi, perché una celebrità come lei, può rimanere senza Whatsapp gold? Assolutamente no, proceda, proceda, installa, segua il link, guarda che bello, installato, le piace? Molto, bellissima, sono contentissimo, no, e invece no, perché lei ha appena installato un virus, non bisogna fidarsi di queste cose, non lo sente un po' il virus? Allora, bisogna sempre, sempre, sempre installare le applicazioni solamente dagli store ufficiali, le faccio un altro esempio, se lei riceve un messaggio, anzi quella che lo mando così si, ho ricevuto, grazie, bravo, leggiamo insieme, allora, gentile utente, sta per ricevere uno sconto da 200 euro, lo voglio, lo voglio, da spendere nei negozi di, e qui una delle tante catene commerciali, perché col tempo cambiano i nomi, no, a sfonda del tipo di, ma, per sconderlo, faccio attenzione, lega bene, deve rispondere a un sondaggio cliccando sul link, l'hai clicca? Lì, clicchi, bravissimo, vede che ci sono delle domande, a volte sono difficili, a volte sono facili, allora, da questo momento in poi, lei pensa di avere il bonus, in realtà è pieno di virus, ancora? Pienissimo, mi sento male, non sto bene, sempre, guardami, grazie, però guardi, siamo quasi pronti per salvarla e per far recuperare la situazione, ma tuttavia le aziende, soprattutto i grandi centri commerciali, non mandano i test per ricevere buoni sconto via WhatsApp, per ora tutto questo non succede, non esiste, e allora io mi stimo e mi incoraggio, vi stimo e vi incoraggio a fare molta attenzione, anche su WhatsApp, WhatsApp, cosa succede? Eh, succede di stare attento.